Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, intanto come state? Buon inizio di fine settimana, mi auguro che abbiate gite in programma, tanto noi giochiamo martedì che c'è frega del resto, che c'è frega del resto. Mi raccomando ragazzi, questo video è due goduri e più una piccola cosa che mi ha un pelin fastidito, che torniamo sempre a parlare di cose che non quadrano nella giustizia sportiva, ma ci arriviamo. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, che è importante il vostro sostegno, mi raccomando, e vi invito inoltre a scaricare la PuanFootball, la migliore app sul calcio che vi consente di rimanere sempre sul pezzo aggiornati per quanto riguarda il mondo Juve, ma non solo, anche tutte le altre squadre, basta che selezionate le vostre preferenze e riceverete quotidianamente le notifiche principali, le notizie più importanti. Quando c'è un'ufficialità, boom, arriva subito la notifica. Un infortunio ti è, però arriva anche con la notifica, quindi mi raccomando, è gratis. Ora, torniamo a noi. Ho visto, ragazzi, il documentario di Prime Video su Federico Chiesa, Back on Track. Ecco, ragazzi, che vi devo dire? Un'ora e venti, dura un'ora e venti, per cui se vi piacciono queste serie legate agli sportivi, questi documentari legati a un momento particolare di vita degli sportivi, quello su Federico Chiesa, devo dire che è anche più bello, per esempio, della stessa serie di Netflix legata al calcio, fatta anche sulla Juve, Arsenal, Tottenham. Quella della Juve non mi aveva entusiasmato particolarmente, ma questo documentario su Chiesa invece è bello, perché fa proprio vedere tutte le tappe, e tutto il percorso che ha fatto Federico Chiesa dall'infortunio fino al rientro in campo. Ed è meraviglioso, perché enfatizza anche i sentimenti duri, quelli negativi, che vanno superati, in qualche modo, con il lavoro, con la convinzione mentale. Perché nel video e nel documentario di Prime Video gioca un ruolo importante l'aspetto mentale, dall'aspetto della fisioterapia, che, insomma, è importante, ma viene abbinato sempre ad un aspetto mentale, all'allenamento mentale, al riappropriarsi del proprio ginocchio mentalmente. È molto bello, perché poi Federico Chiesa è una persona, si vede, che è di cuore, genuina, generosa, e che si spende tanto per questa passione che il calcio, poi, è diventato anche un lavoro per lui, fortunatamente. E credo che il momento più duro sia stato proprio l'attesa fino al primo passo senza stampelle. Credo che quell'evento là sia il più significativo nella testa di chi vuole riprendere a lavorare. Perché poi ogni piccolo, da lì in poi, ogni piccolo step è una conquista e si è motivati. Ma il momento più duro è quando bisogna mollare la certezza che la stampella con un ginocchio che non regge e l'attesa fino a quell'evento là logora, secondo me mentalmente logora tanto. E poi questo infortunio qua al ginocchio per giocatori proprio come Federico Chiesa, cioè non si parla di un difensore centrale. Si parla di un esterno che ha tendenza ad accentrarsi, che ha il dribbling, che ha delle giocate dove ovviamente quella parte là è sollecitata tanto. Per cui sull'aspetto mentale si è lavorato anche tanto. Insomma, ci sono state anche delle problematiche. Ho visto un chiesa incerottato sempre sul lato. Probabilmente, insomma, il ginocchio si gonfiava spesso durante i suoi carichi di lavoro. Questo però significa anche che al di là dell'aspetto di guarigione soggettiva lui abbia lavorato tanto. Andando anche un pelo oltre, spesso il limite, ma proprio per la voglia e per l'agonismo e per la testa che è questo ragazzo. Sono orgoglioso di avere questo campione nella mia squadra, anche se non mi ha dato la mano l'altro giorno. Ci mancherebbe altro. Però adattate mi faccia giuire da casa, non è tanto quel gesto che mi importa. Se c'è, bello, sì, me lo terrò per sempre. Però l'importante è vederlo felice, vederlo anche farci felici. Perché è quella la cosa più bella per noi tifosi. Un giocatore come lui, ragazzi, è da apprezzare in tutto e per tutto. Si vede che un giocatore che si spende tanto, è testardo, che va dritto come un mulo. Ha dei valori importanti. La famiglia è sempre al primo posto e la figura anche della ragazza, Lucia, è stata determinante per il suo percorso. Una persona che comunque è slegata completamente al contesto calcistico. E questo probabilmente l'ha aiutato anche molto perché lei le ha dato molte rassicurazioni. Perché è una tipologia di infortunio che chi ha un pelo di conoscenza calcistica ha sacco di infortunio duro. E quindi in quella figurata magari si sarebbero innescate delle dinamiche di preoccupazione. Che poi avrebbe trasmesso direttamente al proprio ragazzo Chiesa. Invece lei, completamente disinteressata, è stata secondo me un'altra stampella forte per la ripresa di Federico Chiesa. Quindi, contento così, ho visto uno staff deciso, attento nella sua ripresa, ci è voluto un po'. Questo significa che qualche complicazione bene o male c'è stata. Però è meglio riprendere piano e bene che veloce e male, come è successo a tanti altri. Quindi, bene così, sono contento di aver visto questa testimonianza di Chiesa. Ed è la prima cosa che mi ha fatto godere di più in assoluto. Questa proprio è stata, ragazzi, la cosa più bella. La seconda cosa che mi ha fatto godicchiare è il Chelsea che pareggia col Fulham. Dopo la grande campagna acquisti, poi è ovvio che ci vuole tempo, eccetera. Perché era in amalgama, perché ci sono tanti ingredienti nuovi. Però vedere il Chelsea scricchiolare, nonostante l'ha, è un po' ragazzi, lasciatemelo dire. A me ha fatto godere vuoi per l'invidia, probabilmente. Il fatto che il campionato italiano non ha più quella capacità di spesa, né quella capacità di attrattiva. Può darsi che sia un po' di sana invidia, è niente di che, però è un po' goduto, lasciatemelo dire. Un'altra cosa che volevo farvi notare è il fatto che il mercato in Italia sia stato quello che è. Lo sapete bene, ne abbiamo già parlato. Quando la Juve non spende, perché ci legano le mani, i soldi non girano, eh. Girare, girare, i soldi non girano. Entrata sta politica dell'austerità e ne prendiamo atto. La cosa invece che mi ha dato un po' fastidio, particolarmente fastidio, è invece legata all'inchiesta. Legata all'inchiesta Plus Valenze. Piero Sandulli, non so se lo conosciate, ma è il famoso giudice di Calciopoli che disse qualcosa legato al sentimento popolare. Che non c'è il curreato, alcuna partita truccata, ma il sentimento popolare, insomma, è quella roba là che ci aveva inchiodato. Sui dichiarazioni. Si è lasciata andare ad una sorta di intervista da figura che sta come vicepresidente del Collegio del Coni e mica a pizze e ficchi. Oltretutto è imparentata con anche la presidente, perché il marito della presidente della Camera del Collegio del Coni, insomma, è sposata con l'ipote di questo Piero Sandulli, va e si lascia andare completamente sulla questione di quell'esvalenza, dicendo che sì, la Juve è difesa molto bene, però, insomma, la Juve è quotata in borsa, ha parlato di elementi, di principi contabili che secondo lui hanno inciso nella situazione, e, insomma, ha spiegato la sua opinione. Io mi chiedo, ma prima di questo ricorso qua, è il caso di rilasciare interviste di questo tipo? Poi, con la carica che ricopre questa figura qua, immaginatevi voi di essere coinvolti in un processo penale, una persona di grande influenza vicino al giudice che vi deve comunque, insomma, giudicare per ciò che avete fatto, si lascia andare in un'intervista dove va a dire la sua opinione. Non viviamo in un paese normale, ragazzi, per vero, questa è una cosa dell'altro mondo. Serve delicatezza, riservatezza, la persona che è giudicata ha anche dei diritti. Non mi pare una cosa da un paese civile, uno stato di diritto, mi pare una roba veramente da Corea del Nord, Iran, ripeto, dove non viene riconosciuto il diritto alla difesa si manifestano queste cagate. Queste cagate, oltretutto, gettano un fango su un briciolo, quel poco che rimane di trasparenza all'interno della giustizia sportiva, poi la spaziamo via. Cioè, se avevamo dei dubbi sul fatto che magari, sapete, non funziona bene per tanti motivi, eccetera, siamo anche un po' presi di mira, ok, dalle varie procure, sia ordinaria che sportiva, ma di conseguenza, dell'ambito sportivo, procura federale, mi fa specie vedere questo ex presidente, insomma, della Corte federale, ora vicepresidente della Corte del Collegio del Coni, che strapparla tranquillamente di un caso che è ancora in atto. Oltretutto, questa persona è imparentata con chi ci dovrebbe poi giudicare. Io, ragazzi, non so che dire, vi alzo le mani e dico, evviva, è questa roba qua che ci meritiamo. Tribunali del popolo, stiamo tornando ai tempi degli antichi romani, quando Ponzio Pilato faceva poi scegliere al popolo Cristo o Barabba. La gente scelse Barabba, poi, eh, non dimentichiamocelo. E niente, siamo questa roba qua. Signori, io vi saluto, vi mando un forte abbraccio e sempre, fino alla fine, forza Juve!